pronto per una parata speciale quella dedicata a frozen dopo un l'auto pranzo direi ebbene si qua ai piedi del castello e su quel palco arriva frozen vado vado ciao amici guardate sta arrivando ragazzi ho tolto anche la giacca si sta troppo bene veramente allora ho conosciuto biancanevi abbracciato winnie de pooh tra poco vedrò scenerentola e più tardi ariel insomma una giornata fantastica ho cucinato alla grande e niente adesso vado a pranzo ma qui è veramente una favola e la cosa bella è veramente questa innovazione di disneyland nel senso che non esiste soltanto burger e patatine fritte ma puoi mangiare veramente di tutto verdure legumi cereali integrali hai veramente l'imbarazzo della scelta bravissimi bravissimi ciao ragazzi ragazzi emoziona mille proprio ragazzi Emma anche qui Grazie a tutti Immagino vi sia piacente tantissimo È una figata pazzesca Veramente bellissimo ragazzi Si torna bambini e come